Questa domanda non mi è stata posta tra i commenti dei miei video, ma visto che mi riguarda in prima persona, me la canto e me la suono. I professionisti o gli imprenditori possono accedere al superbonus? Fatti specie 1. Nel caso di interventi su condomini, su parti comuni, la risposta è sì a prescindere. Non c'è nessun problema, né per le società né per i professionisti. Gli immobili posseduti o detenuti da questi soggetti, sia che siano strumentali all'attività sia che costituiscano l'oggetto dell'attività stessa, sia che siano beni patrimoniali appartenenti all'impresa, possono ottenere il beneficio, ovviamente sulla base delle quote millesimali. Mentre su edifici unifamiliari, i destinatari del superbonus sono le persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni. Quindi potrai ottenere il superbonus solo se intervieni sui immobili appartenenti all'ambito privato, dove non c'entra nulla la tua attività. Mentre se l'unità immobiliare è un bene dell'impresa o costituisce oggetto della propria attività o è un bene strumentale, non potrai sfruttare il superbonus. Ad esempio, se hai l'ufficio all'interno di quell'unità, o decidi di spostare l'autosede oppure non puoi accedere al beneficio. Infine, quello che ti ho detto vale anche per il regime forfettario. Se hai dei dubbi, chiedimeli nei commenti e come in questo caso risponderò tramite dei video. Quindi, se vuoi restare aggiornato, iscriviti al mio canale e ci vediamo presto. Ciao!